benvenuto comandante capo commissario teledirector mister Olenzo Barabba guest relation manager Pompeo Cavallo ospitali di service manager la nostra Carla la mia biondissima assistente alla dimensione che c'era ma il quiz director Roberta e ovviamente gli specialisti per tutte le lingue the specialist for all the languages the specialist for all the languages specialist for all the languages the specialist for all the languages the international host and hostess del Costa Magica e adesso vorremmo vedervi tutti quanti con il bicchiere in mano io vorrei vedere tutti con una copa in la mano I would like to see all of you with the glass in your hand in molte alles mi da glass in la ranzé per brindare tutti insieme per trancher tutti insieme poi le prosi insieme insieme per essere un brindisi tutti quanti to have a toast all together in stile italiano italian style e stile italiano salute e noi ovviamente ringraziamo ancora una volta con tutta la vostra energia on bar take another time with all your energy via blanche no e ma l'unzio capitane capitane il comandante fabio bramato chef commissario del diretto mister lorenzo baraba il nostro guest special manager pompeo ospitante service manager carla assistente cosietto roberta e adesso voglio sentire le solito per tutti gli inglesi con la tua ragione abbiamo Michael e per le nostre voce per le voce abbiamo qui sindi e alla vostra ucraina latvia micola grazie achtet tutti 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 i lavoratori e di paracolazione